C'è un'esperienza da vivere perché comunque il contatto con la natura secondo me è la cosa fondamentale nella vita ecco stare a contatto ti fa rivivere. Quellissimo erano anni che non lo facevamo e siamo molti contenti. Flash Mob a San Floro organizzato dai ragazzi del Mulinum per permettere a chiunque di raccogliere i 15 mila girasoli piantati qui sulla collina. È un momento di condivisione, un flash mob non è altro che un appuntamento dato su internet e chi viene viene. Questa sera dal numero delle macchine, delle persone, penso centinaia di persone hanno raccolto questi magnifici girasoli a San Floro dove abbiamo fatto appunto la prima collina di girasoli per estetica quindi senza scopo di produrci olio o altro ma giusto per dare un po' di felicità alle persone. Come ti è venuto in mente di fare una cosa del genere? Sì, lo scopo di Mulinum è di preservare il territorio e difenderlo e secondo me con iniziative del genere che gratuitamente ti danno la voglia di scendere in campagna e vedere cosa succede, raccoglierti dei girasoli da portarti a casa, Mulinum rispetta la sua missione che è quella di difendere il territorio coltivandolo e quindi anche se sembra un grandissimo spreco in realtà è un momento di gioia e di condivisione per tutti quanti e quindi si mantiene la parola data che è quella di preservare quello che c'è di bello. Un'intera collina di 15 mila girasoli oggi è stata a disposizione di centinaia di persone che con felicità e gioia, poi magari sarà anche un record mondiale, hanno raccolto dei girasoli tutti allo stesso orario tutti insieme. Le persone hanno bisogno di staccarsi dal cemento e di tornare alle loro radici? Sì, è per questo che a San Floro ci teniamo per far vivere l'agricoltura in un modo nuovo e alternativo ed è per questo che abbiamo successo, rispondiamo a un bisogno, tornare col contatto alla terra, alla natura. Il prossimo appuntamento sarà il 14 luglio dove anziché i girasoli raccoglieremo spighe di grano con la festa della trebbiatura insieme all'artista internazionale Michelangelo Pistoletto e Yuvala Vidal. Buonasera, siete andati a raccogliere i girasoli? Sì, sì, abbiamo fatto una passeggiata, abbiamo preso qualche girasole, siamo divertiti. Un flash mob, cosa avete fatto durante questo flash mob? Abbiamo raccolto, abbiamo sorriso, ci siamo divertiti e basta. Appunto perché amo i girasoli, sono bellissimi. Un flash mob a cui ho voluto partecipare per rendere omaggio così alla natura. Le piacciono i girasoli? Le piacciono i girasoli? Sì, è venuta qui da dove? Da Catanzaro a Lido. Sì, sì, è una bellissima emozione è stata. Cosa avete fatto con questo flash mob? L'ha organizzato il ragazzo di Mulinum, è un ragazzo interessantissimo e ci ha regalato questo spettacolo che non vedevo forse da anni o comunque non qua in Calabria, ecco. Grazie.